Bruno Oceale, Alessia. Oggi chi deve venire? A nessuno. Allora, oggi parliamo del camminato del BG, ok? Ok. Chiamandì a tutti di andare a iscriversi al canale Anaconda TV, così facciamo un botte di video, un botte di like e ti porto fuori a cena. Ok? Ok. Chiamandito. E ora vi mando alla clip. Ciao belli. Eccoci qua. Allora, vi ho fatto vedere che nella intro ho parlato con Alessia, la mia nuova segretaria. Questa è la mia nuova segretaria. Ecco, come ho detto nella intro, oggi parliamo di basket in carrozzina. E' molto simile al basket in piedi, ma più bello, più duro, perché in carrozzina c'è molto più lavoro, c'è molto più di fisico e di lavoro. Oggi andiamo a vedere nel giro C della Serie B, ci saranno sette squadre, io vi dirò l'elenco, poi vi pronunceremo insieme cosa sarà il futuro di queste squadre, ma ora partiamo subito. Come prima in squadre vedo, c'è il basket Ghost Battipaia. La squadra Ghost Battipaia, io la vedo come ultima posizione. Poi, poi dopo c'è il Donorione, il nome Donorione potrebbe essere al sesto posto. Poi, poi c'è l'NPC Reddy, perché ora questa squadra è parte di molti giocatori, perché non sono andati nella prossima squadra che vi dirò. Quindi l'NPC Reddy saranno quinto, secondo me. Poi, poi giovani e tenaci, perché i giovani e tenaci, oltre ad avere i loro giovani, si sono vestiti qui, sono venuti dai piedi e poi da altre squadre. e quindi io metto i giovani e i quarti. E ora passiamo ai primi tre. Io non posso che dire, al terzo posto io metto Porto Torres. Porto Torres hanno fatto una squadra in Serie B, già una squadra in Serie A. Sono molto forti, ma secondo me saranno terzi. E poi, ora siamo al secondo e al primo posto, tra una squadra di Roma e una squadra di Firenze. Ma ora andiamo per il secondo posto. Il secondo posto io lo do a Santa Lucia Roma, perché è Santa Lucia. Ora non si deve concentrare sul gioco, ma invece al primo posto ci mettiamo i mennellini, i volpi rossi di Firenze. Quindi, questo è il mio pensiero sulla tipica finale di questo girone. Se sei curioso di conoscere meglio il wheelchair basketball, iscriviti al canale e lasciami un bel mi piace. Oppure, non mi lasciare un bel mi piace, ma iscriviti al canale e diventi da parte della Big Family of Anaconda TV. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.